Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Questa volta altro video di analisi del nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth che è stato per l'appunto fatto vedere in formato ridotto al TGA del 2023. Adesso invece abbiamo la sua versione tradotta ovviamente in italiano, abbiamo la possibilità di leggere i sottotitoli in italiano, anche se io già avevo tradotto la versione giapponese, ma non c'è molta differenza questa volta, a differenza di altri trailer in cui la versione giapponese aveva delle parole riportate proprio in maniera diversa che rendevano le frasi un po' ambigue, per così dire, mentre invece questa volta la traduzione sembra essere abbastanza fedele, quindi possiamo tranquillamente vedere il trailer in italiano e ovviamente vi farò vedere, analizzeremo anzi, vi farò vedere e analizzeremo tutte quante le sequenze e inoltre vi darò anche i riferimenti in base al sito ufficiale Square Enix dove appunto sono state già rivelate molte informazioni di quello che si vede all'interno di questo trailer. Quindi direi che i sottotitoli sono già in italiano, ok, possiamo cominciare a guardare il trailer. Ok, il mondo verrà salvato, ma tu, questa è la stessa frase che già avevamo visto scritta anche nel trailer precedente, quindi non c'è nulla di diverso, solo che il tutto parte con la sequenza di Zack finale che noi abbiamo visto ovviamente nel remake con la sopravvivenza di Zack ma che effettivamente non sappiamo come si è riuscito a sopravvivere. Sento i proiettili uno a uno e gli arriva uno in faccia che sembra praticamente pronto ad ucciderlo però a quanto pare noi già sappiamo che Zack sopravviverà quindi sarà successo qualcosa, probabilmente sto proiettile verrà deviato o si sgretolerà a causa del fatto che i Numen siano stati distrutti per esempio e quindi avremo questa sorta di liberazione del destino. Qui invece abbiamo Buchenhagen probabilmente nella zona sottoterra di Cosmo Canyon nella zona sotterranea di Cosmo Canyon che parla della loro ira quindi ecco di nuovo la loro ira sono avversari che non devono essere sottovalutati che è la frase che verrà detta dopo sì ragazzi io lo so a memoria praticamente il trailer perché l'ho guardato già tante tante volte vedete sullo sfondo che comunque si vede una creatura che ovviamente sarà un boss o comunque sia sarà una creatura con cui dovremmo avere a che fare è un nemico da non sottovalutare qui Vincent che dritto al sodo chiede subito chi è il tuo nemico e ovviamente Cloud risponde Sephiroth se vi ricordate anche nel set originale c'era questa sorta di dialogo dove eravate voi che rispondevate appunto al fatto che Sephiroth fosse il vostro nemico lasciaste riposare Vincent e poi era lui stesso che invece vi seguiva e vi avrebbe detto dice se il vostro nemico è Sephiroth e la scena allora abbiamo un obiettivo comune e quindi posso in un modo redimermi e quindi cercare vendetta e redenzione nello stesso momento questa invece è una scena molto particolare scena molto particolare perché abbiamo Zack e Biggs che stanno a confronto dove per l'appunto Biggs anche tramite appunto il riferimento del sito ufficiale è l'unico sopravvissuto del team Avalanche quindi la scena che noi probabilmente abbiamo visto nel remake dove c'era Biggs all'orfanotrofio nel settore 5 sdraiato sul letto che stava riprendendo coscienza probabilmente non era la nostra timeline ma era un'introduzione a quest'altra timeline e i guanti di Jesse che erano appoggiati sul banco e tutti i riferimenti potrebbero tranquillamente essere dei ricordi o comunque potrebbero essere appunto dei riferimenti al fatto che quei personaggi siano morti quindi Biggs si è ripreso fondamentalmente dalle sue ferite come viene descritto anche nel sito ufficiale si è ripreso dalle ferite e adesso giura vendetta nei confronti della Shinra per aver ucciso i suoi amici eccovi quello che vi stavo dicendo ovvero sul sito Square Enix nella sezione appunto di Final Fantasy VII Rebirth è possibile leggere la descrizione dove appunto abbiamo il voice actor Gideon Emery viene presentato addirittura come nuovo personaggio quindi è un nuovo Biggs praticamente quello che avremo di fronte dove appunto la descrizione parla del dopo essere sopravvissuto alla caduta del settore 7 al piatto del settore 7 Biggs si sveglia per anzi Biggs si sveglia e praticamente scopre di essere l'ultimo rimasto come membro attivo per quanto riguarda l'anti Sheera Rebels quindi della Sheera praticamente dell'Avalanche una volta recuperato una volta essersi rimesso diciamo da tutti quanti i suoi infortuni adesso cerca vendetta contro la compagnia che ha ucciso i suoi che ha ucciso i suoi compagni quindi che ha ucciso che ha ucciso i suoi amici vedi loro sfortunati o no? solo io riesco a farcela? e qui come potete notare c'è la foto di tutto quanto il team dell'Avalanche Barrett Tifa Jesse e Wedge che sbarrati con la X rossa probabilmente in riferimento all'altro trailer che abbiamo visto dove tutti erano diciamo stati recuperati dalla Sheera che erano che avevano praticamente recuperato i corpi a quanto pare dopo il disastro infatti lì non era presente Eris perché probabilmente al palazzo Shinra non era presente Cloud perché Cloud essendo con Zack non poteva essere fisicamente presente e l'unico sopravvissuto a quanto pare è lui è Biggs qui ci troviamo a Calm questa è la cittadina di Calm quindi adesso siamo dalla controparte del personaggio ovviamente o della timeline o comunque della storia raccontata da Cloud perché potrebbe anche essere una storia o comunque potrebbero riproporcela in un qualsiasi modo però fondamentalmente qui siamo a Calm qui ci troviamo invece sul traietto che da Junon ci porta a Costa del Sol infatti Zack è vestito da militante Shinra lì ci sono anche tutti quanti i soldati sulla destra che tecnicamente dovrebbero essere il nostro party per così dire per darti appunto l'informazione che tu insieme ai tuoi compagni di armi perché poi facciamo il minigioco da meno in teoria dovrebbe esserci il minigioco quello di disporre le truppe eccetera eccetera e dato che già c'era stato detto che noi saremmo stati in questo caso addirittura dei capitani di armata a differenza del Final Fantasy 7 originale dove eravamo un semplice soldato che si metteva in fila e poi successivamente si camuffava tra gli altri soldati sappiamo che in questo Rebirth noi il minigioco lo condurremo proprio come capitano di armata quindi potremmo essere noi il capitano dell'armata e quelli sulla destra essere per l'appunto i nostri soldati qui ci ritroviamo molto probabilmente sul traietto però nella fase successiva quindi una volta tecnicamente sconfitta Genova il pezzo di Genova appunto che era presente all'interno del all'interno praticamente del bascello e e quindi siamo ritornati ad essere vestiti normale lì ci sono due diciamo due marinaretti che tra l'altro è la stessa divisa che anche Barrett nel capitolo originale ha e quindi molto probabilmente questa potrebbe essere diciamo una sezione diversa della nave anche perché in teoria il traietto di Junon non era un traietto turistico cioè era comunque una nave militare almeno nella diciamo nella sezione originale era comunque una nave militare anche se quando noi tecnicamente dobbiamo ritornare indietro se paghiamo uno dei soldati appunto ci possiamo intrufolare clandestinamente quindi forse per evitare questa cosa o comunque per dare forse un senso al tutto hanno reso praticamente la nave come turistica e hanno fatto magari due sezioni no? una sezione sottostante adibita ai soldati e una sezione sovrastante magari adibita al turismo potrebbe anche essere qui siamo invece al Gold Saucer abbiamo diversi riferimenti Moguri Ciocobo Madame M messa lì di lato che sembra stia dando i volantini per il suo centro massaggi probabilmente o magari dopo la distruzione di Midgar si è trasferita al Gold Saucer e quindi avrà la sua attività lì e chissà magari potremo ricevere un altro bel massaggino chi lo sa ecco qui tra l'altro è molto importante seguire anche il dialogo il dialogo di Cloud dove parla del fatto che a volte non so più chi sono quindi Cloud giustamente affetto dalle cellule di Genova probabilmente ha queste crisi ha questi vuoti di memoria ha questi buchi di memoria e se ne rende conto probabilmente o comunque sta iniziando a rendersene conto dimentico ciò che tutti ricordano che ovviamente questa è un'altra cosa interessante mentre ci troviamo ovviamente di fronte all'hotel l'hotel ovviamente fantasma del Gold Saucer dove poi andremo a riposare e successivamente iniziare il nostro appuntamento che per quanto tra l'altro riguarda l'appuntamento c'è una cosa fighissima che è stata introdotta all'interno di Rebirth ovvero il sistema di friendship quindi potremo in un qualche modo sviluppare un legame particolare con ogni personaggio che porterà successivamente all'appuntamento quindi ci sarà anche il farming tra virgolette della relationship che ci permetterà di farci sbloccare praticamente tutti gli appuntamenti con tutti i personaggi quindi sarà interessante questa cosa da fare magari ci vorranno anche più tentativi per ottenere un personaggio piuttosto che un altro e sarà interessante anche vedere come farmare tra virgolette questa friendship so cose che non dovrei sapere ecco il fatto del sapere cose che non dovrei sapere molto probabilmente è il riferimento alla coscienza di Zack perché Cloud ovviamente essendo l'eredità vivente di Zack si riferisce proprio al fatto che determinate cose lui non dovrebbe saperle ma in realtà le sa e ovviamente le sa grazie alla coscienza di Zack nel frattempo dove ci troviamo qui ci troviamo nella parte sottostante ovvero alla Corel Prison che è praticamente per chi non so ricordasse la parte sottostante al Gold Saucer dove i nostri personaggi vengono praticamente spediti dopo gli avvenimenti del Gold Saucer dove appunto dovranno in un modo o nell'altro poi ottenere la loro libertà ottenere la loro libertà tramite poi ovviamente anche l'ottenimento del buggy che abbiamo già visto nell'altro trailer quindi sappiamo già effettivamente che cosa vedere anche perché il riferimento ora ve lo faccio vedere con le immagini ecco qua il riferimento con le immagini abbiamo il Gold Saucer che è appunto come abbiamo visto prima molto colorato molto grande molto vario pinto e poi successivamente abbiamo la Corel Prison che come potete notare è praticamente la base del Gold Saucer quindi come abbiamo visto poco fa tutte quelle zone un po' diroccate un po' particolari sono esattamente la Corel Prison quindi avremo a che fare anche in questo caso appunto con probabilmente una corsa a Chocobo chissà penso di sì molto probabilmente sì e poi successivamente otterremo la nostra libertà qui ci sono gli attacchi combinati che è appunto un'altra delle cose che abbiamo già visto anche durante la demo di Sephiroth e Cloud giocata appunto a Nibel dove appunto esistono gli attacchi combinati avremo modo di poter fare tutte queste robe è di Cloud va tutto bene in questo caso è Tifa che parla tu mi hai salvata prima ora tocca a me quindi lei si ricorda che Cloud probabilmente la salvò lì al reattore di Nibel perché appunto glielo dice dice hai mantenuto la promessa nel momento in cui mi serviva un eroe l'eroe praticamente mi ha salvato e in questo caso per l'appunto adesso è Tifa che probabilmente in un momento di sconforto di Cloud perché capisce che c'è qualcosa che non va si avvicina al suo amico si avvicina al suo amico quindi tanta c'è tanta lore di mezzo tanti dialoghi tante robe che però sono effettivamente molto 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 particolari qui abbiamo invece un altro dei personaggi che viene introdotto nelle schede dei personaggi di Final Fantasy 7 Rebirth ovvero Gaz eccolo qua dove probabilmente stiamo facendo l'accordo per poter uscire dalla prigione qui invece abbiamo Dio il il proprietario di tutta la baracca con la sua con la sua possanza in stile anime una cosa incredibile che è praticamente la stessa roba dell'originale noi ci vediamo sto maccione tutto nudo praticamente che gira per il Gold Sauser con un mantello dice no lui è il padrone di casa no va bene ok tutto a posto non c'è assolutamente problema infatti come potete notare abbiamo Solemn Gaz voice actor Jonah Scott dove praticamente esatto vedete il farabutto fondamentalmente di Corel della prigione di Corel Gaz è praticamente colui che gestisce tutte le cose al di sotto della Corel Prison e quindi di conseguenza dobbiamo in un modo o nell'altro cercare di farci l'amico per poter uscire dalla zona poi abbiamo Biggs il dottor Sheeran che l'abbiamo visto ovviamente nello scorso trailer e qui abbiamo Dio come potete notare voice actor Jan James Corlett che è praticamente il padrone del Gold il carismatico padrone del Gold Sauser famoso per il suo massiccio fisico e ovviamente i baffi che sono appunto particolare Dio è spesso Dio si trova spesso viene trovato spesso a partecipare all'interno delle parate del suo parco mostrando i suoi muscoli prima di ovviamente presentarsi o comunque urlare in faccia ai suoi ospiti quindi diciamo una persona molto accogliente fondamentalmente una persona che ti mette a suo agio guardate la differenza della mano di Dio e Cloud nella stretta di mano madonna guardate i bicipiti addirittura fisicamente è un Barrett 2.0 probabilmente Dio quindi veramente mastodontico veramente veramente mastodontico e qui ovviamente abbiamo il discorso il classico discorso di Dio quando il destino ci sfida dobbiamo affrontarlo tutti i discorsi motivazionali e qui abbiamo l'introduzione di un altro personaggio che tutti fondamentalmente stavano aspettando che si era intravisto nei vecchi trailer ovvero Sid Sid che finalmente palesa la sua voce si fa sentire ed è presente cioè finalmente lo abbiamo lo abbiamo presente no quello dovrebbe essere il tronco oddio dal colore sembra quello però ovviamente lo sfondo non mi lo sfondo sinceramente cioè sembra il tiny bronco però lo sfondo sinceramente ecco poi qua Sid che si rivolge direttamente ad Eris dice Eris cosa posso fare per te voglio aiutarti qui si vedono le summon titano finice Arisen Bahamut che per noi italiani è Neo Bahamut quindi il nome ufficiale per noi italiani sarà Neo Bahamut è qui altro nuovo personaggio presente che palesa la sua voce palesa la sua faccia ovvero Dain il vecchio amico di Barrett è vero padre di Marlene quindi adesso sapete il perché Marlene o comunque chi non lo sapeva adesso sa perché Marlene non somigli per niente a Barrett perché giustamente uno può pensare ama sua figlia e poi non c'entra praticamente niente esattamente perché Marlene è la figlia di Dain quindi non è la figlia di Barrett e lo dice e lo dice palesemente nel trailer infatti dice dice secondo te posso far vedere Marlene che è suo padre ridotto così e qui abbiamo i riferimenti ai nuovi personaggi quindi abbiamo Vincent Valentine con il voice actor Matthew Mercer che sappiamo tutti ovviamente chi sia Vincent non mi sembra che vi debba mettere qui a dirvi come stanno le robe Sid Highwind che abbiamo visto finalmente il debutto il voice actor J. Michael Tatum e poi Dain con il voice actor Dave B. Mitchell dove per l'appunto la descrizione molto emblematica Dain una volta era il miglior amico di Barrett o comunque era uno dei suoi amici più stretti ritornando indietro a quando i due erano soliti vivere all'interno delle miniere di carbone di Corel adesso lui è un uomo ricercato con un fucile piantato nel suo braccio sinistro e ovviamente la sua posizione corrente o comunque il suo modo il suo modus in questo caso il suo modus operanti corrente è a dir poco sconosciuto ed è esattamente questo perché se poi vi ricordate nell'originale c'era quella parte dove noi scesi all'interno della prigione di Corel sentivamo dalla gente che un uomo col fucile anzi all'interno del gold saucer avevamo sentito che un uomo col fucile piantato nel braccio aveva ammazzato un paio di guardie e poi successivamente si era dato alla fuga tutti quanti il primo sospetto era quello di Barrett poi successivamente abbiamo scoperto la verità e quindi abbiamo visto che il nostro cucciolone Barrett in realtà era il nostro cucciolone ancora una volta è qui qui c'è un'altra ammazzata qui c'è un'altra ammazzata bellissima perché vedete Cloud è ancora incosciente perché ovviamente non si è risvegliato come dissi anche in live Cloud che è insieme a Zack fondamentalmente non può svegliarsi perché non possiede la forza per svegliarsi Cloud detto in parole povere è un merdone cioè Cloud senza la forza di volontà di Zack e la volontà cioè nel senso anche proprio l'eredità in questo caso di Zack l'eredità vivente di Zack non si sarebbe mai svegliato fondamentalmente dal suo sonno di Mako dall'intossicazione Mako quindi diciamo che Cloud deve tutto a Zack in totono e qui infatti abbiamo Cloud praticamente sulla sedia a rotelle che giustamente è ancora intossicato e Marlene addirittura che parla con Zack e Marlene si trova a casa di Eris perché Eris ovviamente come nel remake questa è una cosa che ovviamente mi conferma da una parte la mia teoria non era presente nella lista dei morti perché appunto aveva salvato Marlene l'ha portata a casa sua e poi lei si è costituita infatti Zack poi andrà a salvarla praticamente all'interno della torre Sheerra la cosa che mi ha spiazzato un po' è che tutti gli altri membri dell'Avalanche sono stati dichiarati morti quindi se sono stati dichiarati morti non si sa se effettivamente è così però a quel punto Zack all'interno comunque della Sheerra Tower incontrerà solo Eris non avrà modo di rincontrare Tifa non avrà modo di poter rincontrare anche gli altri e capire che cosa stia effettivamente succedendo ma la cosa più incredibile di questo trailer è sicuramente ciò che Marlene dice a Zack prometti di non dirlo? quando lei si sveglia un uomo cattivo la uccide cioè quando lei si sveglia un uomo cattivo la uccide quindi potrebbe essere a questo punto che Eris abbia in un modo o nell'altro congelato tutto prima di morire e stia in un modo o l'altro anche tramite i suoi poteri d'antica o chissà che cosa stia cercando effettivamente di cambiare le cose ma non solo per lei ma per tutti cioè sta roba sta iniziando a diventare un po' più mindfuck rispetto a quello che ovviamente possiamo aspettarci da un Final Fantasy 7 sta diventando un capitolo con una profondità di trama che sembra stupida all'inizio perché uno può parlare le linee temporali le nomurate tutte queste robe ma se contestualizzate è rese diciamo come una sorta di film di fantascienza io come film di fantascienza per eccellenza prendo Interstellar per esempio come trama che ha quel plot twist ha comunque tutta quella sua diramazione di eventi che ti portano a quel finale che tu dici wow ecco se succedesse una roba del genere tanta roba e qui abbiamo poi la presentazione ufficiale della nuova canzone che sarà la colonna sonora con Jesse che balla praticamente perché se vi ricordate bene Jesse faceva l'attrice a meno il suo sogno era quello di fare l'attrice in teoria e qui a quanto pare c'è riuscita quindi magari forse dopo gli avvenimenti al Gold Saucer o per meglio dire partecipa così come partecipano tutti quanti gli altri diventa appunto una ballerina o comunque un'attrice del Gold Saucer e come potete vedere lo spettacolo lo spettacolo teatrale che solitamente si faceva durante l'appuntamento con ovviamente il vostro personaggio in questo caso femminile perché vi ricordo che se avete Barrett nella versione originale del gioco non potrete fare la sezione dello scontro o comunque la sezione della recita perché appunto due maschi non venivano considerati come coppia e quindi non li facevano entrare quindi una cosa che metterla oggi sarebbe stata una querela denuncia incredibile però era il 1997 e ancora si potevano dire le cose tra l'altro tra l'altro ora qua si vedono appunto diversi spezzoni che fanno vedere gli appuntamenti tra virgolette che si possono ottenere ma fondamentalmente è stato rivelato nel sito che noi prenderemo parte a questo spettacolo che sarà riportato da Loveless quindi avremo la possibilità finalmente di vedere quest'opera o comunque di apprezzare l'opera di Loveless e Barrett Red qui abbiamo questo è quello che si è visto in TGA la canzone con la canzone con tutte queste immagini qui Cloud il ricordo di Nebel Sephiroth che dà fuoco a tutto e qui c'è probabilmente la parte finale dell'appuntamento tutti gli altri che al Gold Soser ballano Seed che è esatto col Bronco quindi avevo ragione sì la scena di prima era quando loro partono col Tiny Bronco Yuffie Marlene Dine Cloud e Tifa ecco questa è la parte dove effettivamente bisognerebbe un attimo bisognerebbe un attimo farsi le domande perché potrebbe riferirsi al fatto che Eris in questa timeline sia diciamo addormentata o comunque sia praticamente qui in coma e stia fondamentalmente creando tutta la storia di Cloud eccetera eccetera cioè nel senso questa potrebbe effettivamente essere la vera storia di Final Fantasy 7 con Zack che magari sopravvive eccetera eccetera e lei invece abbia sognato il Final Fantasy 7 del 97 cioè può aver sognato quella roba o magari viceversa magari lei qui sta sognando quello che le sta capitando attorno cioè è una cosa molto particolare perché Marlene si riferisce al fatto che non appena lei si svegli l'uomo cattivo possa ucciderla ma l'uomo cattivo è Sephiroth chi lo sa perché non è detto che sia Sephiroth abbiamo nuovamente l'apparizione dei Numen come già confermato però non sappiamo chi sia questo uomo cattivo non abbiamo idea e qui ragazzi scena vedete i Numen sullo sfondo ancora una volta e qui la scena ragazzi che la scena incredibile scena incredibile di sappiamo tutti cosa sappiamo tutti cosa quello sguardo quel viso che ci dice praticamente tutto è quella piuma è quella piuma che cade inesorabilmente piano piano che metterà probabilmente fine a tutto o che questa volta potrà essere interrotta boh si vedrà 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 in riferimento invece a quello che vi stavo dicendo poco fa abbiamo le novità degli attacchi sinergici come vi stavo dicendo prima appunto come Cloud e Sephiroth a Nibel Cloud ed Eris che effettuano praticamente l'attacco combinato Tifa e Kitesith che effettuano il loro attacco combinato e le Summon Titano che si è visto già nel trailer poi abbiamo Bahamut Horizon che sarebbe appunto Neo Bahamut il nostro Neo Bahamut in italiano vedete infatti il colore è praticamente quello rosso non è il classico colore diciamo nero di Bahamut ma è proprio questo colore rosso che è per l'appunto Neo Bahamut qui abbiamo appunto tutti gli attacchi Fenice e basta che sono quelli che si sono visti e poi in relazione a quello che vi stavo dicendo prima abbiamo praticamente anche le scelte le scelte che possiamo fare per appunto i Bonds of Friendship quindi i legami di amicizia che poi ci consentiranno di in un modo o nell'altro strutturare il nostro appuntamento al Gold Souser infatti le azioni di Cloud e il modo in cui risponderà agli altri membri del party durante le conversazioni consentirà a loro di affezionarsi di più e creare una sorta di relazione con diciamo di creare una relazione tra di loro con una forte diciamo con un forte legame sarà possibile ricevere alcuni benefici che potrebbero essere praticamente come per esempio diciamo aspetta you faced with a decision cioè nel momento in cui voi avrete in un qualche modo preso una decisione si potrà in un qualche modo pensare in modo un po' più responsabile specialmente se questa decisione coinvolgerà un vostro personaggio preferito quindi potremo in un modo o nell'altro forse diciamo decidere di legarci con qualche personaggio per motivo X che vedremo più in là come per esempio potete notare già l'appuntamento del Gold Souser uno con Eris l'altro con Tifa con Barrett addirittura con Yuffie e poi Relationship Loveless ecco questo è riferimento appunto alla canzone di cui stavamo parlando poco fa quindi una produzione teatrale basato sul classico poema Loveless dove appunto la descrizione è che un eroe combatte contro il re dragone il tirannico o comunque il re tiranno ruler of guardia che anche lui a suo modo è innamorato della principessa rosa quindi noi dovremo interpretare per l'appunto Cloud che è il principe Barrett che abbiamo visto era appunto il Dragon King e dovremo in un qualche modo salvare la nostra rosa che a quanto pare sarà interpretata da Eris e poi grazie alla nuova tecnologia VR il Gold Saucer diciamo il teatro del Gold Saucer prenderà vita in un modo estremamente bello come non l'abbiamo mai visto prima ecco qua dipende ecco dalla vostra relazione con i vostri diciamo i vostri amici la persona che interpreterà rosa potrebbe cambiare anche con alcune parti del copione quindi potremo far fare a Barrett probabilmente il ruolo di rosa questa potrebbe diventare un meme incredibile potrebbe diventare un meme incredibile e poi qua abbiamo tutti i nuovi screenshot che sono fondamentalmente delle ottime copertine che potremmo utilizzare per questo video ma io penso che la mia copertina già ce l'ho quindi almeno spero che nessuno l'abbia l'abbia come la mia la faccia come la mia perché altrimenti devo cambiarlo poi qua ci sono tutti i preorder eccetera eccetera quindi per chi ha il salvataggio di Final Fantasy VII Remake da PS4 e PS5 otterrà la summon di Leviathan mentre invece chi ha il salvataggio di Intermission prenderà la summon di Ramuh e poi invece chi ha preordinato prenderà la summon del trio Muguri del trio diciamo del trio Mugol come summon materia quindi queste sono già le informazioni io le prenderò tutte perché giustamente ho già tutti i salvataggi quindi tanta roba e non vedo l'ora ragazzi non vedo assolutamente l'ora che sia il 29 febbraio quindi questo era diciamo la mia analisi e la mia integrazione dei dati di Final Fantasy VII Rebirth fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate al solito e come sempre ci becchiamo alla prossima adios ciao a tutti i